finalmente una bella giant da gravel ragazzi stiamo parlando della giant revolt advanced 2 2021 vediamola insieme partiamo subito dal telaio ragazzi è rimasto invariato rispetto alla versione dello scorso anno quindi parliamo sempre di un telaio in carbonio molto curato nei dettagli con slooping molto accentuato carro direi piuttosto corto con tubo piantone sagomato carro che ha i fodri alti che si innestano non in cima a tubo piantone ma un pochino più basso quindi differentemente rispetto alla dcr ma più tipo la d5 quindi tipo una bici endurance quella anteriore possiamo vedere l'ingresso dei cavi sul tubo sterzo quello dell'olio invece si inserisce qua sopra nella forcella e quindi scorre all'interno del fodero e qui in basso possiamo vedere questa bella protezione in gomma dove ci sono anche due viti per aggiungere il terzo porta borraccia protezione in gomma che appunto va a proteggere dai sassi il tubo obliquo protezione in gomma che è inserita anche qui nel fodero destro in quel caso però per proteggerlo dalla catena questa bici è interamente montata con gruppo shimano grx quindi gruppo specifico per il gravel diciamo lanciato da shimano appunto proprio sulle bici 2021 questa bici monta una cassetta 11 34 ovviamente a 11 velocità anche il deragliatore grx la guarnitura non è shimano ma è praxis con corone 48 32 ecco magari giant sulle sue bici ha deciso di montare rapportature piuttosto direi dure impegnative per essere bici da gravel ad esempio che è non delle monta rapporti molto più leggeri però giant ha optato per questa scelta magari per un grave leggero magari anche per fare percorsi piuttosto misti quindi anche con molto asfalto potrebbe essere una scelta azzeccata le leve ovviamente sono sempre grx con questa bella finitura opaca leve anch'esse specifiche per il gravel così come specifico per l'utilizzo a cui è pensata questa bici il manubrio e come potete vedere ha un back sweep che tende ad andare verso dietro quindi non è perfettamente diciamo parallelo all'asse dell'attacco manubrio e ha anche la parte bassa che tende verso l'esterno per aumentare la larghezza della presa quando si è appunto in presa bassa il nastro è quello di serie già montato nastro in gomma con moto grip mentre il reggisella ha questa forma di quindi schiacciato dietro e con davanti è un reggisella in composito qua sotto questo coperchietto in gomma nasconde il meccanismo di serraggio del reggisella quindi con anche la brucolina per serrarlo e la sella è una giant approach le ruote anche sono della giant sono le px2 ruote pensate appunto per grave le ciclo cross che ospitano copertoni già tubeless quindi già senza camerataria sempre giant e per la precisione sono i cross cut at 1 da 38 mm di spessore direi copertoni si belli scanalati ma neanche tanto infatti sono copertoni direi quasi semi slick magari per un utilizzo gravel piuttosto leggero e non tanto impegnativo arriviamo alla vera novità di quest'anno che oltre al gruppo che ha cambiato rispetto allo scorso anno è anche il colore infatti questo colore direi può piacere e non può piacere mentre gli altri anni giant ha puntato su colori più classic più tradizionali che potono piacere un po a tutti quest'anno ha puntato per questo verdino che io definirei latte mescolato con la menta infatti mi ricorda proprio il latte quando era aggiunta la menta è un verdino appunto che può piacere non può piacere mentre la scritta in questo verde più forte a me sinceramente non fa impazzire però nel complesso mi soffermerai tanto sul colore per scegliere questa bicicletta diciamo così questa ha un prezzo di 2.500 euro quindi è salito leggermente rispetto alla versione dello scorso anno però si arricchita il gruppo grx che è sicuramente un valore aggiunto per una bici da gravel quella che vedete qui nel video è una taglia s ed ha un peso con nastro manubrio già messo di 9 kg e 500 grammi quindi direi peso molto onesto per questo prezzo per questa tipologia di bicicletta mi sembra avervi detto tutto ragazzi fatemi sapere qua sotto nei commenti se vi piace questa bici posso dirvi che è un modello che l'anno scorso è andato letteralmente a ruba già per quest'anno c'è molta richiesta quindi da quello che ho visto finora è una bici che piace molto fatemi sapere la vostra io come al solito vi ringrazio per l'attenzione vi invito a mettere un bel mi piace ad iscrivervi al canale e vi do appuntamento ad un prossimo video ciao 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 ciao